L'amministrazione comunale di Palo del Colle rimette nelle mani del Liberti Palo appena promosso in promozione la grana dello stadio, inadatto ad ospitare la prossima stagione. In una riunione tecnica con il sindaco Domenico Conte sono state valutate due strade. La prima possibilità prevede un bando pubblico per la scelta di un tecnico che si occupi della manutenzione straordinaria dell'impianto. A progetto ottenuto il comune di Palo del Colle dovrebbe stipulare un mutuo con la cassa depositi e prestiti o col credito sportivo per dare esecutività ai lavori, il tutto in due anni circa. L'altra ipotesi invece prevede la concessione sempre con un bando pubblico della gestione dell'impianto ad un'azienda. Quest'ultima non pagherebbe l'affitto mettendo mani però ai lavori di manutenzione compreso il manto in erba, una soluzione che pare mettere d'accordo la dirigenza del Liberti Palo e la stessa amministrazione Conte. Il problema però non si risolve in tempi brevi. La domanda, la squadra neopromossa dove dovrà disputare le partite nei comuni limitrofi? La domanda, la squadra, 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 la